Sì, sembra presto ma è già sapore di palio. Siamo con il delegato del Comune di Monte Argentario per il palio marinare del Porto Santo Stefano. Perché oggi è successa una cosa importante? Sì, importantissima. Te sai che io dico da sempre che per noi addetti a lavori è palio 366 giorni all'anno. Questo non mi stancherò mai di dirlo e lo dirò sempre con più forza. È ovvio che oggi abbiamo messo un'altra pietra miliare secondo noi, secondo il nostro modo di vedere sul futuro del palio. Perché il palio aveva bisogno di una rivisitazione, era una rivisitazione importante a livello statutario. Cosa che non è che era fallita ma che comunque ha sempre avuto, nonostante il buon lavoro che è stato fatto negli anni e specialmente negli ultimi recenti, ha sempre avuto comunque degli interventi a spot. Stavolta vogliamo riscrivere la costituzione del palio. C'è uno statuto nuovo? Praticamente tutto nuovo completamente, ovviamente i cardini non è che si discutono, i cardini non si discutono, il palio si fa il 15 d'agosto, si fa con le barche, i rioni sono 4, i metri sono 4 mila, le girate eccetera. Però come costituzione, come l'organo supremo che gestisce il palio verrà riscritta, sintetizzata, ammodernata ai tempi di oggi. Questa commissione la che è composta? La commissione che abbiamo selezionato attraverso una manifestazione di interesse pubblica fatta da dirigenti comunali, quindi aperta a tutti, una commissione variegata dove ci sono ex dirigenti rionali, ex capitani dell'ente palio, ex capitani dei rioni e comunque c'è anche un avvocato, c'è dipendenti comunali. La qualità è sicuramente alta, i nomi li conoscete, comunque il presidente sarà Gianni Galato, l'attuale capitano dell'ente palio, la segretaria con senza diritto di voto è Alessandra Chiocca, poi c'è Libero Fanciulli, Roberto Verdile, Lorenzo Bracci, Paolo Baffigi, Cesare Emanuelli e poi l'avvocato Rosa Calabrese. Questo per avvenuta selezione delle domande che erano pervenute al comune. Ma che potere decisionale avrà poi alla fine del salmo quello che ha fatto la commissione? Sarà legge oppure no? Assolutamente sì, nel senso che la legge ovviamente come tutte le leggi e come tutte le proposte sarà alla fine del lavoro presentata all'amministrazione comunale che la renderà emendabile, cioè faremo praticamente, apriremo alle osservazioni come si fa nei piani regolatori, nelle cose molto importanti del comune, dove un semplice cittadino, ma i rioni soprattutto ce l'aspettiamo dai rioni, potranno fare le loro osservazioni. Osservazioni che poi dalla stessa commissione potranno essere accolte, respinte, accolte parzialmente per poi tirar fuori, speriamo entro fine anno, il documento finale. Una volta tirato fuori il documento finale sarà la politica insieme ai rioni che decideranno quando questo documento diventerà effettivo per poter svolgere, sostituire l'attuale... Quindi è possibile che nel 2018 abbiamo un nuovo statuto? Diciamo tecnicamente l'avremo sicuramente, ora poi non so se sarà anche in vigore, questo quello vedremo. Forse l'avremo in vigore assieme ai nuovi guzzi? Perché si è parlato anche dei nuovi guzzi, eh? Assolutamente sì, questa è l'operazione, la grande operazione, l'ennesima grande operazione che faremo sempre per il futuro del Palio, anche lì obiettivo 2018, 2018 ricordiamo a tutti che ci sono le amministrative, quindi vedremo quale sarà il futuro sindaco e che approccio avrà sicuramente positivo nei confronti del Palio. Qual è la cosa che ricordi e che ti vuole legare al dito di aver fatto di bello proprio per Porto Ercole? Ma sicuramente il lungomare perché sono già passati qualche anno ma è stato veramente un grosso lavoro di restyling ed è molto bello, insomma è veramente bello e poi spero veramente di chiudere col botto, diciamo così, riqualificando, rimettendo in piedi questo famoso asiletto di cui veramente in condizioni ormai rudere sostanzialmente e ci è venuto a fare questa idea di dedicarlo a Caravaggio, di fare un centro culturale per Caravaggio e penso che insomma abbiamo stanziato parecchi soldi per quest'anno e quindi a presto vedremo vedremo, non dico l'inizio dei lavori ma insomma comunque degli atti amministrativi che porteranno prima della fine del mio mandato appunto a iniziare almeno questo grosso lavoro. Quindi credete molto in questo turismo culturale? Sì, turismo culturale insieme ovviamente al solito turismo nautico, insomma per Porto Ercole vorrà ricordare, penso di essere ricordato non solo per i lavori fatti ma soprattutto per questa storia dei famosi pontili, le gare dei pontili, insomma una cosa che ha fatto veramente storia e direi quasi legge visto che insomma all'inizio ci danno tutti per matti il mettere a gara i pontili, invece ora la cosa è ormai sentenza definitiva, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione su tutto, su tutto tutto e quindi veramente questo è stato un grosso risultato. spero poi veramente a questione di diciamo di mesi di chiudere il discorso piano regolatore di Porto Ercole e quello lo stesso sarà un grosso fiore all'occhiello direi, insomma non ci dimentichiamo sono cose di 50 anni fa che erano rimaste così sospese, poi queste questioni di settimane forse la chiusura del piano regolatore di Cala Galera e il rinnovo della concessione all'attuale gestore di Cala Galera che comporterà una serie e anche una serie di lavori importanti, non ultimo un canale lì a Bocca d'Oro che permetterà di metterci tante di quelle barchette cosiddette sociali che ora come ora si trovano nel porto di Port Ercole e che potrebbero trovare la sistemazione in quell'area lì e poi se ne parliamo di Port Ercole non possiamo dimenticarci perché si tratta di Port Ercole il grosso lavoro fatto in Feniglia, la pulizia della Feniglia, aver rimosso 50 casette, insomma è stata veramente una grossa opera di pulizia fatta dopo che per tanti anni e decenni qualcuno aveva messo come dico spesso la testa sotto la sabbia. Insomma il sindaco Cerulli vuole chiudere con il botto, ho già capito. Sì ma anche io con il botto, ma io dico di botti li abbiamo fatti nel bene o nel male, abbiamo fatto tanti, io sono veramente contento, ancora manca un anno quindi è ancora presto per fare il bilancio complessivo ma le opere che abbiamo fatti sono sotto gli occhi di tutti e poi vorrei dire un'altra cosa che è importante perché sai per fare le cose ci vogliono i soldi e tutti sappiamo che certe volte per fare i soldi si prendono con i mutui, ecco la nostra amministrazione in dieci anni i mutui non ne ha presi, anzi ha pagato quelli degli anni precedenti quindi la cosa strana è che abbiamo fatto tante opere che prima non si facevano e addirittura abbiamo pagato i mutui che prima hanno fatto. Alla domanda cosa ci hanno fatto con i soldi prima, nessuno pensa che se li siano rubati e questo sia ben chiaro, lungi da meno. Forse gestiti male forse. Forse gestiti male, forse gestiti come dico spesso in progetti di fattibilità, progetti che poi non venivano fatti ma progetti che però venivano pagati e quindi insomma forse una gestione più attenta avrebbe permesso di trovare un territorio con meno cose da fare. Ecco così io vorrei lasciare al mio successore, non si finisce mai di fare cose però insomma noi abbiamo trovato veramente tante da fare, abbiamo trovato anche addirittura scuole costruite su terreni non nostri per esempio, abbiamo dovuto pagare spropi di situazioni di decenni fa che avevamo costruito qualcosa tipo le scuole, parlo di periodi di Susanna Agnelli, periodi molto lontani che però le amministe successive non sono mai intervenute per chiudere, quindi anche quelle sono state spese con grossi risultati. L'assessore per Porto Ercole del Comune di Monte Argentario Michele Lubrano ci traccia un po' una linea di quelle che saranno le più importanti manifestazioni in questo 2017 per Porto Ercole. Sì, diciamo che siamo sempre in linea con gli altri anni, abbiamo una serie di manifestazioni a livello sportivo come l'ultima settimana di agosto con la nuova tappa del Campionato del Mondo, quindi parliamo del Melgest, una tappa che ormai siamo abituati a verla qua all'Argentario, quest'anno tocchiamo l'ultima di agosto e proprio una tappa del Campionato del mondo, quindi per lo sport ci siamo attivati moltissimo, ma non è soltanto quello. Parliamo invece di un altro lato molto importante per Porto Ercole, quello che è il turismo diciamo così culturale, faccio un solo nome, Caravaggio, ho detto tutto. Beh, come dico sempre bisogna crederci per primi noi, no, Argentarini e poi proporre l'offerta turistica. Il Caravaggio per noi è importantissimo, questo anno, tra questo e l'inizio del 2018, stiamo realizzando questa nuova struttura che è l'ex asilo ricaso, l'invecchio asilo che abbiamo qua a Porto Ercole, dove all'interno andiamo a rimettere tutte le produzioni, 79 produzioni del Caravaggio in formato naturale in alta definizione, quindi non siamo più abituati ad andare per dire a Roma a vedere un quadro e un altro, non so, a New York, abbiamo la possibilità di raccogliere tutte queste opere e portarle qua a Porto Ercole, quindi non solo le nostre fortezze, non solo la Forte Stella, non solo percorsi turistici che già stiamo lavorando molto anche col paese vecchio, col borgo, che siamo tra i loro borgo più belli d'Italia, ma puntiamo tutto sul Caravaggio e la spesa notevole perché andiamo a spendere più di un milione e due, milione e tre, quindi... Non sono noccioline. Non sono noccioline, no, questo rispondo anche ai porti ercolesi rispetto a Santo Stefano che mi dicono questi mesi siamo un po' fermi, siamo fermi con lavori pubblici, non è così. Abbiamo fatto prima il lungomare Porto Ercole, adesso abbiamo curato il lungomare Santo Stefano, nel frattempo io comunque ho gestito dei campi sportivi, di altre realtà, diciamo ho investito 6-700 mila euro sul paese, quindi dei lavori ci sono stati fatti ugualmente e da adesso alla fine del nostro mandato spariamo tutto su Porto Ercole, su questo... A proposito di questa fine di questo mandato, che teoricamente potrebbe essere anche la fine del mandato di Michele Lubrano, dico teoricamente perché poi insomma quello che sarà il 2018 lo staremo a vedere a tempo d'eudio, ma dovesse tracciare i risultati più importanti per il Michele Lubrano che ha fatto per Porto Ercole, quali sono? Beh naturalmente i risultati più importanti è il rifacimento del lungomare, la porta senese del paese vecchio, entrare nei borghi dove tanti prima di me ci hanno provato ma non ci sono riusciti e poi vorrei toccare Bocca d'Oro, quanto riguarda il regolamento urbanistico, una zona che dopo 40 anni siamo riusciti finalmente a sistemarla e oggi sappiamo chi sono, che in realtà ci sono, i porti, perché il porto di Cala Galera finalmente abbiamo avuto il nuovo piano regolatore del porto che mancava dal 70, quindi quello è stato un risultato fortissimo e adesso sono in pubblicazione sul porto di Porto Ercole, questa pubblicazione va avanti per 60 giorni, dopo di che andiamo al Consiglio Comunale e chiudo il piano regolatore di Porto Ercole che manca dal 59. Ma allora perché interrompere questo percorso? Vediamo, perché la pressione è tanta, c'è anche la famiglia, ci sono gli impegni, altre attività, vediamo, dal momento diciamo che rimango nella squadra, poi le decisioni finali riprenderò fra qualche mese. E a fine serata sul rinnovato lungomare della Pilarella abbiamo fatto visita al nuovissimo ristorante American Bar Swing dove si è tenuta la festa di laurea in giurisprudenza per il consigliere comunale Chiara Orsini. Al prossimo episodio